Marvel vs Capcom Infinite segue le orme tracciate dagli altri picchiaduro della serie, dando così vita a un crossover epico e spettacolare. Il gioco recupera alcune meccaniche del precedente capitolo e aggiunge alla formula anche alcune interessanti novità, sebbene continui a prestare il fianco a qualche problematica tecnica che sminuisce inevitabilmente il valore della produzione. Le aggiunte rispetto a Marvel vs Capcom 3 sono insomma molteplici, a partire dal numero di personaggi presenti in ogni squadra. Durante gli scontri, infatti, scenderanno in campo team composti da due lottatori, in grado di alternarsi nell'arena o di combattere contemporaneamente per brevi periodi di tempo. Sul fronte narrativo dovremo affrontare la minaccia di Ultron Sigma, fusione di due entità robotiche intenzionate ad eliminare qualsiasi forma di vita. Ad ostacolare la sua avanzata troveremo vari esponenti degli universi di Marvel e Capcom riunitisi per fronteggiare il potente nemico. La modalità storia di Infinite è piuttosto corposa e longeva. Durante lo sviluppo dell'arco narrativo il livello di difficoltà cresce regolarmente permettendo all'utente di prendere confidenza con vari personaggi e con le nuove meccaniche di gioco. Il sistema di combattimento di Infinite ruota principalmente attorno a due elementi, gli assist e le gemme. Rispetto a Marvel vs Capcom 3, questa volta la meccanica degli assist è molto più libera. Premendo l'apposito tasto possiamo far entrare sul ring il secondo personaggio per prendere il posto del primo. In questo modo è possibile sfruttare gli assist per coprire eventuali zone scoperte e per mettere sotto pressione l'avversario. Ogni personaggio è dotato di mosse dall'esecuzione piuttosto lunga che costringono ad un periodo di inattività prima di poter contrattaccare. Chiamando l'assist in quelle circostanze si hanno a disposizione varie opzioni di attacco con cui minacciare il rivale. Rispetto al passato le combo sono più brevi ma la libertà assoluta nell'alternanza dei combattenti premia la creatività dei giocatori e la loro voglia di sperimentare. L'altro elemento di rottura rispetto al passato è rappresentato dalle gemme. Nel gioco ci sono 6 gemme differenti, ognuna dotata di poteri ben precisi. Alcuni di questi gioielli garantiscono risultati notevoli anche ai principianti, mentre altri sfruttano meccaniche molto più complesse. Simili gemme possono essere scelte nella schermata di selezione del team e, se sfruttate con intelligenza, permettono di creare combinazioni davvero letali. Quando un giocatore si trova a un passo dalla morte, inoltre, può evocare l'Infinity Storm che attiva una serie di bonus utilissimi in grado di potenziare temporaneamente i personaggi. Capcom sembra quindi essere riuscita a trovare un piacevole equilibrio per offrire un'esperienza accessibile ai neofiti e appagante per i professionisti. Il più grande difetto di Infinite, purtroppo, riguarda il comparto tecnico. I modelli poligonali dei protagonisti, infatti, sono scarni e animati in modo approssimativo, con un character design parecchio trascurato. Fortunatamente, a risollevare la situazione, intervengono alcune arene piuttosto curate e un'ottima fluidità. Marvel vs Capcom Infinite è un picchiaduro piuttosto piacevole, studiato per accontentare sia i giocatori esperti che i neofiti del genere. Peccato solo per un comparto tecnico piuttosto deludente per il riciclo di numerosi personaggi. Sono pochi, infatti, i lottatori inediti rispetto al precedente episodio della serie, anche se molti veterani vantano un gameplay e un set di mosse del tutto rinnovato. Questa volta, tuttavia, il team nipponico è riuscito a centrare il bersaglio, creando un'esperienza ludica davvero ricca e soddisfacente. Grazie.